Primo video del 2021 sul canale sportivo e non potevamo che aprire con un classico dell'epifania, ovvero la conclusione della tournée dei quattro trampolini, parliamo di salto con gli sci e l'uomo copertina non può che essere il saltatore qui inquadrato, ovvero Kamel Stoch, l'imperatore di Zakopane, colui che ha dominato l'etapa austriaca della tournée imponendosi per distacco sulla concorrenza e soprattutto andando a vincere la terza tournée dei quattro trampolini della carriera, mettendosi ancora una volta nella storia del salto con gli sci e mettendo ancora una volta una pietra migliare su quello che potrebbe essere il titolo di più grande saltatore della storia di questo sport, un Kamel Stoch che entra nella storia, vince la terza tournée soprattutto mettendo la sua legge, imponendo la sua legge nelle tappe austriache della tournée, quindi Innsbruck e Bischofshofen. Partendo dalla fine, Stoch vince la tournée con 48,1 punti di vantaggio su Karl Geiger, una tournée veramente che lo ha visto ingiocabile soprattutto qui in terra austriaca Bischofshofen dove ha vinto entrambe le serie di gara con dei salti veramente di stordente bellezza. Insomma, diamo onore e merito a un Kamel Stoch che a 34 anni è ancora qui competitivo e si gioca la possibilità di vincere trofei importanti come l'Aquila d'Oro, trofeo che vedete impugnato dal saltatore polacco, trofeo simbolo per chi vince la tournée dei quattro trampolini, un evento assolutamente storico, di prestigio assoluto, quasi a livello delle Olimpiadi. Insomma, chi vince entra nel gota del salto con gli sci e Stoch, vincendola per tre volte, ci entra assolutamente di diritto se non quantomeno potenzi il suo status. È stata una tournée comunque interessante che non vedeva Stoch come principale favorito ma altri saltatori, in particolare il leader della Coppa del Mondo, Alvarez de Granolud in primis, ma anche altri saltatori, in particolare i tedeschi che in realtà erano partiti bene ma che poi sono andati via via scemando con il passare della tournée. Questa manifestazione è partita da Oberstdorf, trampolino che sarà protagonista anche a febbraio per i mondiali di sci nordico, marchiati FIS, quindi sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci, e a Oberstdorf per la Germania appunto le cose erano partite bene perché Karl Geiger, che era appunto uno dei candidati alla vittoria della tournée, aveva portato a causa una vittoria di misura in realtà, proprio su quel camelstock che già si vedeva dalla prima gara che avrebbe fatto una tournée di alto livello. Karl Geiger, come vediamo qui dalle immagini della grafica di Wikipedia inglese, che anche qui ci dà una mano, ha vinto con un totale di punteggio sulle due serie di salto di 291,1 punti contro i 288,3 di camelstock che ha comunque archiviato un secondo posto e terza posizione per Marius Lindvik che nelle poche gare che ha fatto ha dimostrato di essere assolutamente un saltatore competitivo con 285,2 punti in terza posizione. È già stata una tappa di Oberstdorf quella che si è disputata sullo Schambert-Tecchanze, assolutamente interessante già prima in realtà che venisse messa in scena la qualificazione della gara vera e propria perché la Polonia inizialmente era stata esclusa dalla gara di Oberstdorf perché Clemens Muranka, uno dei saltatori della squadra polacca, era risultato inizialmente positivo al Covid. In realtà il tampone del polacco si rivelerà essere un falso positivo nel giorno della gara. I saltatori polacchi sono stati ritestati una seconda volta, sono risultati tutti negativi al tampone per il Covid e di conseguenza tutta la squadra polaca composta da sette saltatori è stata riammessa. Per questa gara di Oberstdorf non si è utilizzato dunque il sistema KO, bensì il sistema tradizionale di Coppa del Mondo che vede gli atleti partire dal meno punteggiato al più punteggiato in ordine inverso di classifica di Coppa del Mondo e così via fino a scremare i primi 30 della classifica per fare la seconda regista serie. Dunque in una gara con un format tradizionale la Germania aveva posto le basi per una gran bella vittoria e invece come vedremo nel proseguo della tournée non sarà proprio così. Assolutamente ci sono stati dei piazzamenti comunque interessanti anche già nella prima gara e già da Oberstdorf si poteva capire come i primi 5 potevano essere in comunque lotta per la tournée quindi sia Stolimic sia Grandwood che Eisenbittler. Il problema per la Norvegia in particolare che sarà una delle grandi deluse di questa tournée lo si vede già a Garmisch-Panter-Kirken perché Mario Stolimic per esempio non sarà della partita in quanto dovrà operarsi addirittura ai denti per un ascesso che di fatto lo costringe fermo ai box per due gare dunque già l'index si chiama fuori salterà infatti Garmisch e Innsbruck c'è spazio allora per Grandwood per provare a imporre la sua legge perché Grandwood è arrivato qui da leader della Coppa del Mondo e da saltatore tecnicamente da battere perché appunto il norvegese come ho detto più volte anche negli scorsi video era il favorito tecnico e invece Grandwood deve di fatto come dire accettare una seconda sconfitta anche se accettare come vedremo dopo non è il termine più corretto ai danni stavolta di un polacco non Calmi Stok bensì David Kubacki che comunque non è l'ultimo arrivato in quanto il polacco è il detentore della tournée precedente o meglio era avendo vinto appunto l'edizione scorsa Grandwood viene battuto comunque nettamente perché Kubacki ha strassaltato a Garmisch-Panter-Kirken lo vediamo nelle misure riportate 139 metri nella prima serie 144 addirittura nella seconda quasi record del trampolino per il polacco che insomma ha fatto il vuoto e ha dominato una gara partendo dall'ottava posizione se non sbaglio in qualificazione Grandwood in cassa la seconda sconfitta consecutiva e già qualcosa nel meccanismo del norvegese come vedremo andrà a incepparsi in particolare verso le tappe austriache terza posizione per un altro polacco Piotr Zhiva che comunque essendo un saltatore di livello il podio nel piazzamento nei primi dieci lo porta sempre a casa come vedete ho parlato tanto di Polonia in questo inizio di video ma perché appunto la nazione polacca sarà la nazione da battere per tutto e sarà la nazione che ha piazzato più effettivi nelle prime dieci posizioni e ne vedremo al termine di questo video quando faremo un bilancio di questa tournée gli altri risultati appunto Kamil Stok finisce quarto comunque costante quinta posizione per Karl Geiger che ha fatto un passo indietro rispetto alla gara di Obertov che l'aveva visto vincitore al termine comunque di Garmisch-Parter-Hirken sommando i due punteggi delle due gare tedesche quindi in questo caso 280,1 aggiunti ai 274,9 ponevano Grandwood come leader della tournée dei quattro trampolini e dunque si è andato in Austria subito dopo la gara di Garmisch-Parter-Hirken gara disputata sul Bergisel, quella di Innsbruck e qui già vediamo che Alvor Grandwood manca dalla classifica perché per un errore nella prima serie della gara di Innsbruck complice anche una velocità di stacco dal dente molto molto bassa il norvegese si posiziona nelle retrovie nella prima serie addirittura penultimo sui 30 qualificati poi farà un bel salto nella seconda serie andrà a rimontare ma non arriverà addirittura nei 10 finirà quindicesimo è da qui che Kamil Stock comincerà a dettare legge perché vincerà entrambe le serie di Innsbruck come punteggio sarà appunto il migliore 131,7 nella prima e 129 nella seconda per un totale di 261,6 punti e da lì Stock si prende tappa e maglia della tournée prima della gara di oggi di Ubisoft Schofen anche se voi vedrete il video il giorno dopo alle 19 c'è gloria per la Slovenia perché Ancel Anisek compie una bellissima gara facendo un ottimo secondo posto peccato che da Stock prenda un distacco enorme non arriva neanche a 250 punti lo sloveno e terzo David Kubatski che comunque si rivela un saltatore molto costante ed era ancora in lotta per la classifica della tournée la Polonia come al solito ne piazza 3 nei 5 e quando va male ne ha piazzati 4 nei 10 quarto posto per Piotr Jiuwa la grande sconfitta oltre Grand Road è la Germania perché anche Karl Geiger buca completamente il salto della prima serie e l'unico tedesco nei 10 è Marcus Eisenbichler saltatore che era anche lui un outsider in ottica tournée ma come vedremo nella classifica generale purtroppo raccoglierà le briciole si va con questa situazione dunque a Bischoff-Schofen non prima però di aver visto anche qualche polemica all'interno del circus dello ski jumping perché Grand Road ha di fatto accusato Kamil Stock di essere molto fortunato con le condizioni meteo trovate accuse per la verità onestamente molto infondate e dunque c'è stato un tentativo di Grand Road di lanciare a suo modo un guanto di sfida facendo ulteriore polemica una polemica che in realtà verrà zittita dai fatti della gara di Bischoff-Schofen dove Stock farà il bello e il cattivo tempo ma anche dallo stesso Grand Road che ancora una volta Bischoff-Schofen sbaglierà la gara Grand Road per la verità si è scusato reputando comunque Stock uno dei saltatori di riferimento del circus e non potrebbe essere altrimenti anche visto i risultati ma è evidente che già a partire dalle sconfitte di Ubersdorf e Garmisch-Paterhirken qualcosa del meccanismo Grand Road si è inceppato si arriva poi a Bischoff-Schofen con una situazione abbastanza in bilico con Stock che sembra il legittimo favorito per vincere la tournée con Gandolo e Kubacki a inseguire ma la storia l'abbiamo detta un Kamel Stock sontuoso che vincerà anche le prime due serie della gara di Bischoff-Schofen e di conseguenza quattro serie vinte in Austria 38 vittorie in Coppa del Mondo un distacco della tournée allucinante perché come vediamo qui dalla classifica riportata in basso sinistra in questa schermata totale punti di Stock 1110,6 il secondo non è neanche Grand Road ma è Karl Geiger che comunque fa una buona tournée a 1062,5 punti sono 48,1 i punti di distacco di Kamel Stock e la Polonia per non sapere leggere né scrivere ne piazza tre, anzi due, nei primi tre con David Kubacki che batte di un'incollatura Grand Road che perde addirittura il podio della tournée per quattro decimi è evidente che Alvor Grand Road è il legittimo sconfitto di questa tournée dei quattro trampolini numero 69 considerato che appunto veniva dato come il favorito tecnico la grande vincitrice è indubbiamente la Polonia perché Kamel Stock si piazza primo dominando in lungo e in largo anche Bischof Schofen facendo due salti di stordente bellezza l'ultimo addirittura a 140 metri con addirittura il massimo di valutazioni da parte dei giudici ovvero 20 punti da parte di uno di essi Kubacki è terzo e si conferma sul podio della tournée dopo averla vinta lo scorso anno quinto è Piotr Ijiwa e sesto a pari merito con Ryuyo Kobayashi è Anja Istankawa che è un giovane saltatore polacco che comunque essendo il quarto della squadra si concede il lusso di piazzarsi nei primi dieci della classifica generale della tournée le grandi sconfitte ovviamente sono abbiamo detto Granlund e la Germania perché appunto a parte Geiger che era già un outsider di suo non c'erano in realtà gli estremi già dopo la prima gara per vedere dei saltatori tedeschi competitivi c'è soddisfazione invece per altre nazioni in particolare il Giappone perché il concordi a Cimantai Ryuyo Kobayashi è tornato a livelli che gli competono soprattutto nelle gare austrie che il giapponese ha piazzato dei buoni salti e si è piazzato complessivamente nelle prime dieci posizioni veramente in scioltezza e attenzione perché tecnicamente il giapponese sta tornando dopo un inizio di stagione abbastanza insordina e per i mondiali di Oberstdorf di febbraio Kobayashi può essere una mina vagante assoluta per quella manifestazione ma ne parleremo ovviamente in tempo debito quando appunto presenteremo i mondiali di Oberstdorf per quanto riguarda sci nordico quindi in particolare salto con gli sci e combinata dello sci di fondo lo lascio ovviamente a chi ne sa di più parliamo anche dell'Austria che ancora una volta fa una tournée senza podi per quanto riguarda questa manifestazione ne piazza dunque due nei dieci in particolare Stefan Kraft anche lui è un saltatore che sta tornando Kraft ha saltato di fatto i primi due mesi di Coppa del Mondo per vari infortuni e il Covid il secondo austriaco è Daniel Uber complessivamente saltatore che comunque era in forma ma qui non aveva il passo per competere con i polacchi soprattutto e anche lo stesso Kraft che comunque si è dimostrato una spanna superiore completano la classifica dei dieci anzi completa perché è rimasto solo un saltatore di cui parlare Peter Preutz il migliore degli sloveni Slovenia che ha cambiato tanto anche dal punto di vista gestionale perché come dicevo nel video scorso l'allenatore è stato di fatto cambiato e hanno anche escluso dalla Coppa del Mondo per il momento Timi Zajc saltatore di punta nel movimento sloveno e anche Preutz sta tornando non lo vedo così competitivo per il futuro dei mondiali in ogni caso è comunque un piacere vedere un saltatore di un certo livello in top 10 in tutto questo comunque nonostante Granrod sia il grande sconfitto della Tournée e l'Aquila d'Oro non sia andata a lui rimane il leader della Coppa del Mondo perché ovviamente la Tournée ha segnato gare di Coppa del Mondo nelle ultime 4 gare quindi Granrod non ha vinto e non ha accumulato così tanti punti dai 600 che appunto gli erano in dote prima della tappa della Tournée di Oberstdorf il norvegese va a 768 punti in classifica ha comunque un grande vantaggio sui diretti concorrenti ma attenzione perché negli eventi che contano il norvegese abbiamo visto che può essere abbastanza fragile il secondo in Coppa del Mondo al momento è Marcus Eisenbiller che comunque ha un distacco quasi di 200 punti rispetto a Granrod Eisenbiller peraltro ha sbagliato la gara di Bischof Schofen qualificandosi addirittura non qualificandosi scusatemi per la seconda match è terzo Camelstock che con le ultime due vittorie che gli hanno portato 200 punti nel carniere va terzo da sola 508 ma Stock è il saltatore più in forma evidentemente in questo momento e già in questo weekend il 10 e l'11 si gareggerà in Germania Titise Neustadt trampolino che storicamente è favorevole ai polacchi tutti gli altri li vediamo non c'è ancora l'inserimento di Ryuyu Kobayashi in Top 10 c'è comunque Yuki Asato altro giapponese che ha fatto bene nella tournée non ai livelli di Kobayashi ma come ho detto il saltatore di Hachimantai sta tornando la Polonia anche qui detta legge tra virgolette come squadra in Coppa del Mondo che ne piazza ovviamente 3 nei 5 la Polonia nei mondiali di Ubsdorf a squadre ha la possibilità di vincere entrambi i titoli sia sul trampolino piccolo sia sul trampolino grande mentre la Norvegia al momento appare in disarmo un po' per il calo atletico di Grand Road e un po' perché gli altri saltatori non sono obiettivamente all'altezza è una Coppa del Mondo comunque che si prospetta essere ancora più interessante magari quest'anno può essere già ancora dominata da Grand Road però ci sono come vedete tante altre gare come vedete nella grafica ancora da disputare la prossima come dicevo sarà il 9 e il 10 di gennaio a TGN quindi tra pochi giorni in ogni caso la tournée va in archivio l'edizione numero 69 va a Camelstock e il prossimo video del salto con gli sci e combinata nordica sarà dedicato a questa manifestazione ovvero la 42esima manifestazione dei mondiali di sci nordico che dunque comprenderanno sci di fondo combinata nordica e salto con gli sci dunque dal 22 febbraio al 7 marzo questo canale avrà anche uno spazio dedicato a questo evento ma l'evento copertina appunto l'abbiamo detto è la conquista della terza aquila d'oro per Camelstock per il salto attore polacco che va a 38 vittorie in Coppa del Mondo domina la tournée dei 4 tampolini vincendo con 48,1 punti di vantaggio sul secondo classificato ovvero Karl Geiger entra ancora di più nella storia di questa disciplina e si candida a essere uno dei più grandi di sempre se non lo sia già in ogni caso il tributo è doveroso a questo grande saltatore un saltatore che ci ha regalato tanto spettacolo un saltatore che ha 34 anni è ancora lì a dettare legge ultima parentesi della tournée c'era anche l'Italia in corsa c'è stato un ottimo Giovanni Bresadola per le potenzialità dell'atleta si è qualificato a due gare su quattro meno bene Alex Sins ma su di lui si sta facendo un percorso diverso Bresadola ha dimostrato comunque che in condizione può giocarsela con i migliori anche nei trampolini ovviamente meno favorevoli quindi meno dove l'aerodinamica conta ci sarà da lavorare ma i trampolini dove l'aerodinamica è presente il nostro Giovanni Bresadola ha fatto veramente bene per le potenzialità e lo vedremo anche ora in azioni in Coppa del Mondo e obiettivamente anche ai mondiali in ogni caso ancora una volta la copertina è per Cammy Stock e il Nordic Podcast si conclude qui fatemi vedere cosa ne pensate il saluto da parte di Matteo Tolga ci vediamo al prossimo video